Ho sentito diversi bambini e anche alcuni adulti purtroppo dire che gli insetti non sono animali. Non so cosa pensino possano essere, forse dei demoni o chissà cos'altro. Beh che che ne dicano gli insetti sono animali perfettamente legittimi e sono su questo pianeta da molto più tempo di noi, solo qualche centinaio di milioni di anni. Dunque meritano tutto il rispetto e la gentilezza che possiamo dare loro e oltre per l'antichità anche perché ci hanno insegnato come si può vivere in un pianeta insieme ad altre specie senza causare problemi. Dovremmo fare come loro in effetti.